e bentornati a tutti ragazzi sul canale times gadget come andiamo oggi si torna a parlare di prodotti pitaka come sicuramente avete capito e dopo aver visto nel penultimo video tutte le nuove cover e accessori pitaka per gli iphone 12 12 pro e 12 pro max questa qui è la loro cover ve l'ho messa qui da un lato adesso poi vi dirò anche il perché vi vorrò fare un confronto oggi però andiamo a vedere la nuova serie di cover pitaka aircase per questi nuovi s21 da non confonderti con la mag ex case è quella che vi ho fatto vedere l'anno scorso per gli s20 quest'anno anche per l'ephone 12 o per i note la mag ex case esiste anche per questi s21 comunque se siete interessati ad acquistarle volete anche maggiori informazioni o volete vedere anche le altre colorazioni vi lascio qui sotto in descrizione tutti i link sia allo store ufficiale pitaka ma anche quando è possibile e dove e quando sono disponibili i prodotti vi lascio anche chiaramente il link ad amazon ma adesso vi spiegherò poi le differenze fra questa aircase e la mag ex case perché ci sono piccole differenze ma alcune sono tra virgolette anche sostanziali abbastanza importanti la confezione di vendita di quest'anno è la classica pitaka molto bella elegante ma anche devo dire minimale qui davanti abbiamo riportato tutte le varie caratteristiche principali che vanno a contraddistinguere questa cover in particolare anche questa chiaramente come prima caratteristica è quella che ci ricorda che è tutta costituita in fibra aramitica è fatta in kevlar quindi un materiale molto particolare ce lo dice anche qui sotto che sono materiali selezionati è una cover che è stata anche leggermente ridisegnata è tutta più tonda è tutta un po più smussata devo dire anche fatta molto meglio soprattutto sui bordi quelli che vanno di taglio a filo con il display adesso poi ve lo farò vedere e poi le due caratteristiche principali che contraddistinguono questa serie air che è molto più leggera rispetto alla mags case infatti qui parliamo solamente di 10 grammi ed ha uno spessore di soli 0,65 millimetri quindi come sicuramente capirete è estremamente sottile la confezione all'interno tutta nera si presenta davvero bene quindi ora abbiamo i vari brand per i vari canali social dell'azienda però parlando di tutto nero ragazzi ditemi solo se vi fa comodo vi piace questo sfondo nero che sto utilizzando per la prima volta dopo che mi è arrivato da poco questo nuovo tappetino con questi prodotti neri quindi nero su nero se vi piace e vi trovate bene anche vedere questi video oppure se vi interessa e vi piace di più tornare a tappetino quello grigio che portavo nei video precedenti comunque aperte e chiusa questa parenzi all'interno di questa confezione cosa abbiamo abbiamo il cover chiaramente e poi dentro poi non abbiamo nient'altro qui ci fa solo vedere come installarla ma è una cover non penso che c'è bisogno di istruzioni particolari abbiamo altri due fogliettini uno per gli ringraziamenti dell'azienda che abbiamo comprato un loro prodotto il secondo poi abbiamo un vip treatment e in pratica è un query code che ci riporta poi al sede ufficiale dell'azienda per supporto non abbiamo particolari poi promo o codici sconto se nel caso per l'azienda chiaramente mi rimanda io ve li condivido sempre sul gruppo di telegram quindi mi raccomando ragazzi tra parentesi iscrivetevi anche al gruppo di telegram e vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione e poi da questa parte invece abbiamo i vari contatti canali social della pitaca e su questo fogliettino invece abbiamo un fogliettino illustrativo dove ci fa vedere tutti i vari gli ultimi prodotti dell'azienda molti di questi prodotti come state vendo qui davanti sono rivolti ai prodotti apple ma qui dietro abbiamo anche poi una serie di prodotti universali compatibili un po con tutti gli smartphone ma poi tanti altri prodotti come per esempio queste cover della samsung o anche le cover per i one plus o altri tipi di prodotti pensati anche per altri dispositivi non apple li trovate sempre sullo store ufficiale ma anche in parte alcuni anche su amazon italia ma visto anche questo andiamo a vedere adesso un po più da vicino come è fatta questa air case sicuramente mi sbaglierò dicendo mag ads ragazzi non ci fate caso perché questi nomi tra pitaca delle volte non mi vengono non mi rimangono in mente comunque una cover è come dicevo estremamente sottile ancora più sottile e anche leggermente un po più flessibile va a torcere questa volta rispetto alla mag ads case che quando la prendete in mano si sente subito fra i due seppur questa qui è per iphone e questa qui per samsung però vi assicuro che si sente io ho avuto anche o ancora la mag ads case quindi il modello di questo qui per l'iphone sia per il note ma anche per l'S20 abbiamo lo stesso quasi identico poi il design rispetto agli S21 e vi assicuro che è leggermente differente al tatto ma anche a livello di robustezza i bordi quelli che vi dicevo che sono stati secondo me ancora più stondati anche perfezionati sono questi qui guardate già il bordo quanto è sottile per rendervi conto dello spessore minimale che ha questa cover e questi bordi se negli anni scorsi ho rimproverato alcuni modelli della pitaca che erano non vi dico taglienti ma delle volte davano fastidio grattugiamo un po il dito invece quest'anno sono stati ancora più perfezionati e leggermente anche stondati migliorati sotto il profilo estetico ma anche del touch and feel all'interno non abbiamo nient'altro se non questa sfoglia di kevalar con il brand pitaca purtroppo non abbiamo la scritta qui dentro e questa è quella più grande differenza fra i due modelli fra la mag ads case e la air case sulla air case non c'è la compatibilità con i supporti magnetici della pitaca adesso vi dirò anche poi le altre differenze e che cosa ci andiamo a rimettere con questa air case il materiale come ho detto già altre volte è il kevalar e molti di voi sapranno che è uno dei materiali più resistenti che abbiamo oggi in commercio e l'apprezzo però dall'altra ragazzi purtroppo è una resistenza come vi ho già detto in altri video abbastanza relativa perché relativa perché il kevalar ho fatto caso che queste copie poi in particolare sono estremamente resistenti ho visto alcuni video che hanno resistito come già vi ho detto altre volte perfino a proiettili di pistola gli hanno sparato la pistola che anche con un fucile a pompa e non si sono assolutamente bucate il proiettile non è riuscito nemmeno a passare però non essendo all'interno rinforzate non avendo nessun tipo di sistema per assorbire e disperdere l'urto quindi per esempio mi immagino qui all'interno con scenetti d'aria sistemi di assorbimento con il tpu o con qualsiasi altro tipo di materiale ma sono solamente sottili e abbiamo solamente questo strato di kevalar capite bene che in caso di urto quando abbiamo il telefono all'interno l'urto o la botta viene tutta poi restituita direttamente riflessa allo smartphone e quindi vi giocate lo smartphone quindi sono cover sicuramente molto di nicchia perché non servono per proteggere lo smartphone da urti e da cadute ma servono per proteggerlo da eventuali graffi per anche cambiare un po' l'estetica se volete un qualcosa di elegante sicuramente è una cover estremamente elegante con il brand nuovo Pidaga qui sotto cosa non vi ho fatto vedere mi piace rispetto a quella degli iPhone rispetto anche a quella dei OnePlus perché ve l'ho portata anche per i OnePlus 8 Pro dell'anno scorso anche 8 che nella parte superiore vedete questi modelli Samsung come anche sul Note o come anche sull'S20 dell'anno scorso non solo per questa Air vale anche per la Mac X case abbiamo tutta la copertura sia sulla parte superiore ma anche su quella inferiore dove sulla parte inferiore però abbiamo un foro che non è stato ridisegnato proprio a filo è andato ad abbracciare qui il primo microfono ma è stato leggermente solamente allargato alcuni cover per esempio come quelle della Spec o altri modelli che mi sono capitati adesso di recente avevano un disegno qui del foro leggermente più a filo e leggermente più preciso qui hanno solo allargato il foro non che sia un problema sicuramente sicuramente poi la cover è estremamente sottile quindi non avete problemi nemmeno per inserire poi penne USB o cavi USB-C di terze parti un'altra cosa che dovete stare attenti è che questa cover è talmente sottile ed è estremamente minimale che non ha nemmeno il bordino nella parte superiore o in quella inferiore cosa che secondo me forse qui è un Neo e lo possono anche fare non ci rimetteva nulla potevano alzare leggermente di qualche millimetro la cover sul bordo perlomeno non per proteggerla da urte da cadute perché è talmente sottile che non è che la andava a proteggere da urte da cadute ma perlomeno per non far toccare il display che abbiamo o no adesso la pellicola perlomeno quando lo poggiamo con il display porto verso il basso perché ho fatto caso che è una posizione del telefono è un'abitudine che avete in tanti anche perché ce l'ho pure io e mi avrebbe fatto sicuramente piacere avere un bordino più alto i pulsanti da questa parte sono tagliati a filo ma non sono stati coperti mentre mi è piaciuto come sicuramente molti di voi avranno sicuramente notato il foro e il taglio che è stato fatto per andare ad abbracciare la fotocamera una fotocamera che viene anche leggermente abbracciata ma va anche sopra il comparto fotografico non è stata tagliata a filo come su altri smartphone che per quanto lo possano tagliare a filo quel mezzo millimetro o anche qualcosina in meno di un millimetro comunque si lascia di vuoto loro sono andati direttamente ad abbracciarlo sopra questo fa sì che c'è un piccolo gradino che va a proteggere le fotocamere ma capite bene che è estremamente sottile si tratta in pratica di 0,65 mm di spessore al di sopra delle fotocamere quindi molto molto sottile infatti vi consiglio di stare attenti anche quando poggiate il telefono in questo modo e lo strusciate poi la cover è estremamente piacevole anche da tenere in mano perché questo tipo di Kevlar secondo me è stato lavorato è stato anche rivestito di un film, di una pellicola leggermente gommata quindi piacevolissimo al tatto quasi soft touch che non si graffia, non trattene le impronte quindi molto molto bella sotto questo aspetto e poi quali sono gli altri punti negativi di questa Air però rispetto alla MagX Case che vi ricordo la potete sempre trovare anche per questa linea dell'S21 se qualcuno se lo stesse chiedendo è che purtroppo come ho fatto vedere prima queste Air non sono compatibili con i supporti magnetici perché proprio all'interno non hanno inserito le varie piastre di metallo a cerchio secondo me questa qui è una cavolata perché se uno deve arrivare a spendere una cifra del genere e qui parliamo di 49€ anche su questo o mi sembra 45€ mi sembra che si va o a pareggiare con la MagX Case oppure si tratta di una differenza davvero minima tra i due modelli secondo me non conviene scegliere questa Air ma conviene direttamente optare per le MagX Case perché almeno avete il supporto magnetico per poterle far funzionare e installare anche il vostro telefono e renderlo compatibile con i vari supporti fra cui anche il supporto da macchina per il supporto da macchina se nel caso optate per i supporti da macchina per gli S20, S21 o anche per i OnePlus mi raccomando informatevi sul sito dell'azienda e vedete qual è il modello compatibile perché al contrario dell'iPhone che basta questo supporto qui senza nessun tipo di adattatore e il costo è anche leggermente inferiore qui infatti si parla di 29 o 30 euro circa qui il costo si alza perché se volete dei supporti adatti per questo tipo di comporto fotografico e per renderlo anche più resistente ma soprattutto più forte anche la calamita e volete far accompagnare anche qui sopra con i vari gommini il design del telefono perché per esempio prendiamo OnePlus ha una fotocamera dritta l'S20 invece aveva la L e questi supporti poi sono stati disegnati apposta per queste fotocamere ecco dovete optare per questi altri supporti che sono i medesimi, sono uguali ma avete questo diciamo adattatore in più che va ad abbracciare il tutto come il cornice che vi fornisce un'ulteriore calamita e questi due supporti anche che sono a calamita ma sono anche gommati questo qui è un supporto molto comodo ecco perché vi dico di optare per le MagS case perché per chi non lo sapesse questo qui è un supporto da macchina magnetico ma che al tempo stesso ha anche la ricarica wireless infatti qui sotto avete il cavo USB-C da poter far attaccare direttamente al caricatore da macchina oppure anche a una power bank se volete l'accendete e vi mette anche in carica il telefono chiaramente poi i vari piedini all'interno trovate i medesimi che trovate sugli altri questo qui che è quello per attaccarlo al cuscotto con il figurino 3M oppure trovate anche la piccola pinzettina per attaccarli alle alette della macchina alle varie ventole quindi ecco quali sono le differenze maggiori ah, ultima cosa sulle MagS case anche se le prendete per gli S20 o anche per altri modelli a parte per gli iPhone purtroppo anche quei modelli non sono compatibili col tutto che hanno la calamita all'interno la piastra con i vari accessori fra cui il nuovo portacarte magnetico che non capisco il motivo per cui deve essere compatibile solo unicamente con le cover per gli iPhone ma soprattutto cosa che mi ha un po' più fregato e soprattutto ci sono rimasto un pochino più male è non è compatibile anche quest'anno con questa qui che è la Juice Pack mi sembra la Juice 2 non mi ricordo mai poi i nomi degli accessori Pitaka comunque si tratta della Powerbank Wireless con calamita chiaramente che poi si può andare a inserire sul suo supporto da tavolo per poterla utilizzare anche quando siamo a casa direttamente sul tavolo questa qui è un accessorio estremamente comodo fenomenale voi la appoggiavate qui dietro e il telefono entrava in carica però purtroppo anche con le MagS case l'ho detto che mi confondevano questi nomi anche per questi S21 purtroppo non è compatibile col tutto che c'è la piastra non capisco il motivo di questa scelta aziendale e sinceramente non l'ho mai capito comunque io vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione ragazzi poi fatemi sapere voi che cosa ne pensate se avete qualsiasi altro dubbio dettaglio o informazione lo sapete io sono qui a vostra disposizione mi potete scrivere qui sotto nei commenti oppure contattarmi sui vari canali social in primi Instagram il gruppo di Telegram e poi ragazzi mi raccomando se vi piacciono questi video e volete supportare il canale volete supportare anche tutto il lavoro che faccio su questi tipi di prodotti anche proprio a livello di video recensioni mi raccomando un bel like e cosa più importante iscrivetevi al canale YouTube e passate parola così che si va ad allargare questa opinione che stiamo pian piano formando tutti insieme e detto questo ragazzi per concludere noi ci vediamo alla prossima video recensione da Time's Gadget per Giorgio buona giornata a tutti e grazie ancora per la Time's Gadget a tutti bella che a tutti a tutti